La sfiducia da parte del PD è stato un atto ignobile. Sono le parole di Marina Mastropasqua, vicesindaco dimissionario del Partito Democratico, che però attacca i dem melitesi a difesa del sindaco Carpentieri. Penso di essere una persona legata al partito e una donna di partito. Quando in quel famoso infuocato direttivo mi fu detto che il PD sarebbe passato all'opposizione e la delegazione si sarebbe dovuta ritirare, io coerentemente con quanto stabilito da quel dettame mi sono dimessa. Penso di essere stata coerente, il partito non lo è stato perché in quel direttivo non si parla assolutamente di mandare a casa il sindaco, di fare un atto secondo me ignobile come quello che è stato fatto e quindi io mi sento ancora adesso una persona di partito e spero che il partito a questo punto prenda le conseguenze di quest'atto e si comporti in maniera naturale, mettendo fuori dal partito che ha casato lo scioglimento anticipato di questa esperienza amministrativa. Secondo lei quindi sarebbe auspicabile un commissariamento del circolo cittadino? Io penso che è necessario un commissariamento perché al momento la situazione è ingovernabile per mettere un po' di regole in questo partito e penso che la fine innaturale di un'esperienza amministrativa a conduzione PD debba essere in qualche modo punita. Il problema nei fatti qual è? Cioè è sempre quello relativo che molto spesso si vede anche in altri circoli del Partito Democratico? Cioè quello del capobassione di turno che vuole portare avanti la propria corrente e dunque va anche contro il suo stesso partito di farlo? Ma a Melito c'è un intreccio di problemi come quello che lei citava con una serie anche di altre situazioni penso un po' più complesse. Dal punto di vista amministrativo si è sempre lamentato una scarsa interlocuzione con l'amministrazione benché ci fossero da parte nostra tutte le aperture possibili. Cioè noi siamo sempre stati disponibili al dialogo. Probabilmente non sempre le cose sono andate come ci si aspettava dall'altra parte. Cioè il fatto che molte questioni amministrative non siano state risolte nella maniera in cui si auspicava probabilmente ha portato dei malcontenti diciamo troppo forti fino ad arrivare alle estreme conseguenze.